Anima è la ricerca. Tanta. Ecco, anche chi dice io non credo, Dio non c'è, ecco, però lo cercano. E sono dei bei momenti quando si comincia un po' a parlare di queste cose. Noi abbiamo creato alla sera uno spazio proprio anche per questo. Dalle sei alle sei e mezza abbiamo la nostra cappellina. Nella sezione femminile, chi vuole delle donne, viene, ecco, leggiamo il Vangelo, si fa un po' di catechesi. Adesso a maggio, diciamo, rosario. Loro ci tengono soprattutto a pregare la Madonna per i propri figli, per le proprie famiglie. E diventa quell'aggancio buono che poi magari continua anche personalmente. Sì, la sorpresa è sempre questa, che magari anche donne che dicono da piccola ho fatto il catechismo, poi, ecco, hanno dimenticato tutto, riscoprono la figura di Dio, la figura di Cristo in maniera più sana. E dicono a volte, se non venivo in carcere, queste cose non le capivo. E speriamo che poi continuino anche fuori di qualcuna. Ma sappiamo che anche quando esce dal carcere, ecco, ogni tanto ci contatta, questa ricerca la continua e questo contatto con Dio continua. Ma anche questo ci fa piacere perché cambia, vedi la persona che cambia proprio.